Ma perché poi piace tanto a noi orientali la bellezza che nasce dall'ombra? Anche gli occidentali sono vissuti per lunghi secoli senza elettricità, senza gas, senza petrolio. Non credo però che abbiano mai amato l'ombra come noi, ma persino i loro fantasmi sono diversi dai nostri. Da sempre i nostri non hanno gambe. Sembra invece che i loro siano generalmente provvisti di arti inferiori, che dimostrino una certa inettitudine nel fluttuare e, soprattutto, che siano diafani. La nostra immaginazione induggia su ogni raggrumarsi dell'ombra. Gli occidentali conferiscono persino ai fantasmi la trasparenza del vetro. I colori che amiamo, negli oggetti della vita quotidiana, sembrano il risultato di molti strati di oscurità. Gli occidentali amano ciò che brilla, come per luce diurna. Ci piace che argento e rame acquistino la patina del tempo. Per gli occidentali la patina significa sporcizia e mancanza di igiene, e non cessano di strofinare i metalli perché acquistino la fuggidezza voluta. Nelle stanze in cui abitano illuminano ogni anfratto e imbiancano pareti e soffitti, rasano i prati che a noi piacciono cosparsi di cespi servosi. Qual è l'origine di gusti tanto dissimili? D'è forse in noi orientali un'inclinazione ad accettare i limiti e le circostanze della vita. Ci rassegniamo all'ombra, così com'è, e senza repulsione. la luce è fievole, lasciamo che le tenebre ci inghiottano e scopriamo loro una beltà. Al contrario l'occidentale crede nel progresso e vuole mutare di stato. È passato dalla candela al petrolio, dal petrolio al gas, dal gas all'elettricità, inseguendo una chiarità che snidasse sin l'ultima particella d'ombra. Non solo siamo differenti per idole, ma anche per carnagione. Mi sono spesso chiesto quale influenza abbia esercitato sulla nostra civiltà il colorito della pelle. Sempre ai giapponesi la pelle chiara è piaciuta più della scura. Del resto esistono fra noi individui con pelli più chiare dell'occidentale medio. Vi sono anche in occidente uomini più scuri della media giapponese. Non credo che la differenza profonda stia nel maggior o minor grado di bianchezza. A distinguere veramente la nostra carnagione è una certa tonalità. Tempo fa, quando abitavo nella zona alta di Yokohama, dove è il quartiere degli stranieri, mi accadeva di recarmi la sera nei ristoranti o nelle sale da ballo frequentati dagli occidentali. Partecipavo alle loro feste e avevo agio di osservare la loro pelle da vicino. Non era poi così bianca. Ma se appena mi scostavo, subito il contrasto con la pelle giapponese appariva evidente. Vero delle giapponesi là che esibivano abiti da sera all'occidentale, non diversi da quelli delle straniere, e carnagioni chiarissime. Perché, dunque, da lontano erano immediatamente distinguibili dalle occidentali? Per qualcosa di denso e di intorbidito che aveva nella loro carnagione. Benché si fossero sforzate di schiarire le schiene, le braccia e sino le ascelle, insomma tutte le parti esposte del corpo, un pigmento d'ombra continuava a ristagnare sotto l'epidermide. Osservarle era come scoprire dall'alto, sul fondo di un limpido specchio d'acqua, un sudiciume lungamente accumulato. Il trucco pesante non riusciva a celare chiazze, scurimenti, cerchiature alla base delle dita, intorno alle narici, in fondo alla nuca, lungo la spina dorsale. La pelle degli occidentali, anche quando è particolarmente bruna, conserva tuttavia una bianchezza e una purità sottocutanee, in nessuna parte del corpo appaiono le nostre opacità dubbie, le nostre untuosità. Fra gli occidentali un giapponese si sente come una macchia di inchiostro diluito su un foglio candido. è una sensazione vaga, incongrua e sgradevole. Forse, un simile disagio consente di penetrare, almeno in parte, nella psicologia dei bianchi, che provano repulsione per le altre razze. Irritata alla loro sensibilità, non tollera la porzione d'ombra che una persona di colore introduce nella bianchezza dell'universo. Non so cosa accada oggi in America, ma ho sentito raccontare che, durante la guerra di secessione, l'odio e il disprezzo che in certi luoghi toccarono parossismo non erano rivolti solo verso i neri, ma anche verso i meticci, i figli dei meticci, i figli dei figli di un bianco e di un meticcio. Una metà, un quarto, un sedicesimo, un trentaduesimo di sangue nero apparivano ugualmente insopportabili, a fautore di un'immacolatezza senza velature. I loro occhi esercitati avevano imparato a distinguere sotto la pelle bianca ogni segreto grano di buio e di opacità. Facile è giustificare, giunti a questo punto, le antiche nozze fra il Giappone e l'ombra. Per dar valore alla nostra peculiare beltà, avevamo bisogno di vivere in ambienti scuri e fra oggetti dalle tinte attenuate. Così pollero i nostri antichi, non perché fossero coscienti del velo d'ombra sulla loro pelle, è probabile che ignorassero l'esistenza dei popoli bianchi, ma perché, attraverso una gamma di colori spenti, il corpo giapponese si armonizzasse con la sua civiltà. Grazie.